Buonasera a tutti gentili telespettatori, oggi a Studio Telequattro è tornato a trovarci il dottor Giuliano Auber, ginecologo, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti i telespettatori e soprattutto alle telespettatrici. Alle telespettatrici, è vero, perché è a loro che rivolto a questo spazio informativo. Oggi, come promesso la volta scorsa, parliamo proprio della menopausa, che è una tappa della vita di una donna. Vogliamo raccontare, proprio dal punto di vista medico, che cos'è la menopausa? La menopausa è un evento fisiologico, non è una malattia. E questa è la prima cosa con cui va approcciata. E questo sarebbe sempre il giusto approccio. È un evento fisiologico dovuto all'esaurimento della riserva ovarica. Nel momento che le ovaie hanno esaurito i loro follicoli, cioè ogni donna nasce con un patrimonio follicolare molto alto, che sarà quello che potrà generare le cellule uovo per eventuali fili. Nel momento in cui questo patrimonio si è esaurito, si è disciolto, sia per predisposizione genetica, sia perché comunque verso una certa età comunque si è esaurito, arriva un cambiamento completo nella vita di una donna. La vita continua, ma continuerà in modo diverso. E questa è la cosiddetta menopausa. Lei ha detto una certa età, vogliamo dire perché in realtà è un po' varia l'età, non c'è un anno proprio specifico, però è un periodo insomma. Esatto, il periodo è molto vario. Innanzitutto negli ultimi anni si è allungato il periodo. Se andiamo a vedere nella storia anche dell'umanità, le donne nel passato, nel medioevo arrivavano in menopausa verso i 35-36 anni, anche prima. Adesso si è arrivati quasi a 50 anni, 51 anni sarebbe l'età media, tra 48 e 53. Questo è più o meno l'età in cui si esaurisce questo patrimonio e arriva a questa menopausa. Però ci sono delle menopause precoci che possono iniziare anche prima di 40 anni e queste sono dovute o a una predisposizione genetica o a una infezione virale che può aver danneggiato l'ovaio. Ed è una cosa abbastanza devastante quando arriva così presto perché inizierà già in quel momento tutte quelle trasformazioni che le altre donne avranno dopo. Quindi si parla anche di un'età abbastanza giovane. Sì, ci sono anche le menopause precoci. Nella mia carriera ho trovato anche menopause a 20 anni, a 25 anni e sono ancora miei pazienti ma è stato un percorso difficile. Questo è sui problemi genetici, quindi non è che sia la norma, anzi, meno male. Quindi in questo caso poi va trattato in un certo modo? Però mediamente si va verso i 50 anni, 48, 51, 52, anche se è frequente oggi trovare signore che mi vanno in menopausa verso i 56, 57, anche 58 anni. Questo da un lato ha i suoi vantaggi ma dall'altro lato pone però delle pesanti attenzioni che dovrebbe fare in quel caso. Quindi essere seguita la donna in questo caso... Sì, dopo ne parleremo quando parleremo delle complicanze e lì ci sono delle complicanze possibili. Ecco, quindi abbiamo detto quando avviene questo fatto fisiologico insomma proprio della donna. Però è proprio una fase composta, possiamo dirlo, da più fasi in realtà. Così detta pre-menopausa caratterizzata da cicli irregolari, abbondanti, saltano qualche mese, già possono cominciare i sintomi menopausali, divampate, sudorazioni, che poi cessano, poi si ripresentano. E questo può avvenire già verso i 35, verso i 40 anni diciamo, però normalmente un paio d'anni prima. E poi arriva la menopausa vera, che per definizione è un momento in cui il ciclo non è più presente da un anno, caratterizzato da alcuni sintomi caratteristici. Dopodiché, quando è tutto stabilizzato, comincerà la post-menopausa, che andrà avanti per tutta la vita. Chiaro, quindi la menopausa è proprio quell'anno in cui c'è l'assenza delle mestruazioni. Esatto. I sintomi, diceva, parlava dei sintomi, sono abbastanza conosciuti? Ce ne sono altri che magari non si conoscono molto bene? A che cosa bisogna fare attenzione per così capire che ci si trova appunto in questa fase della vita? Innanzitutto le persone, cioè le donne, vivono la sintomatologia classica. Questo devo fare una precisazione, non tutte ce l'hanno. Ci sono donne che arrivano alla menopausa senza sintomi, lo dico per l'esperienza dei miei pazienti, quindi ne conosco tante che arrivano, non hanno disturbi, si bloccano e vanno avanti sempre stando bene. E quindi sintomatologia quasi zero. La maggioranza però avrà la classica sintomatologia, quella che percepiscono, cioè le vampate, le sudorazioni, i svegli notturni, i cambiamenti d'umore. E questo è quello per cui si vengono e chiedono che vogliono essere aiutate perché stanno male. Alcune in modo molto pesante. Questa sintomatologia ha portato a durare un paio d'anni, a volte poco, a volte un po' di più, ma ci sono signori che vanno avanti fino a 70 anni, con delle vampate saltuarie, ma comunque sempre presenti. Quindi è un avvenimento molto personalizzato, molto personale. Varia da persona a persona. Varia da persona a persona. E non è neanche facile dire, ma se io voglio non vengono. Oppure vuol dire che non sono forti, non sono... No. È sicuro, ci sono persone di carattere forti, anche istruite, che ci ragionano. Però quando viene sono pesanti. Altri disturbi, oltre a quelli, diciamo, classici, ci sono anche altri disturbi che possono accompagnare questa fase? Sono dei disturbi, diciamo che sono un po' sottovalutati, perché la menopausia è sempre percepita come sintomatologia famosa e vampate. Però in realtà ci sono altri apparati che sono coinvolti. Il primo, noi dobbiamo pensare che la donna, fino a quell'epoca, viveva avvolta in una nuvola ormonale. Cioè gli ormoni plasmavano il suo corpo dalla prima menstruazione fino a questo momento. Quindi tutto, la pelle, i capelli, anche la struttura stessa era influenzata da questi ormoni. E la donna lo percepiva anche mensilmente. Provisamente questo scompare e tutti i vari tessuti, in qualche modo, risentivano di questo cambiamento. Osteoporosi, che non sono sempre percepiti, perché sono nascosti, uno dei più importanti è l'osteoporosi. Osteoporosi, si sente spesso parlare appunto di questo disturbo legato proprio al periodo della menopausia. E questo è molto sottovalutato, si potrebbe anche fare una trasmissione solo sull'osteoporosi, perché è un tema molto molto importante, anche con qualche specialista proprio dedicato. E l'osteoporosi è un cambiamento di struttura dell'osso che è fisiologico in tutti, cioè non è che solo la donna in menopausia, però la mancanza in provviglia degli estrogeni accelera questo cambiamento, anche l'uomo ha la sua osteoporosi. Però fondamentalmente è un processo lento e progressivo che si noterà pian piano. Nella donna, quando una buona metà delle donne, la mancanta di ormoni estrogeni modifica il metabolismo dell'osso al punto che questo va rapidamente in una struttura che per farla capire è la differenza fra una spugna con i buchi piccoli e una spugna con i buchi grandi. Ecco, tanto per... è una immagine molto efficace. Dove per rendere l'idea che cosa diventa l'osso. E chiaramente con questi cambiamenti va incontro a una frattura spontanea molto facile. Generalmente l'esame che si fa, che è una MOC, una densitometria ossea, si fa sia sul femore, che è uno degli ossi più soggetti a incidenti, sia anche e soprattutto sulle vertebre. E' quella che poi cambierà la struttura anche fisica. E quindi là va studiato e va seguita con attenzione. Quindi non è un problema da trascurare, nemmeno secondo me da fare in età avanzata. Andrebbe fatta come punto di partenza subito. Questa è la mia idea. E torniamo alla prevenzione, insomma, al discorso che facevamo l'altra volta. E torniamo alla prevenzione, esattamente. Perché arrivare dopo, quando l'osso ormai è già abbastanza compromesso, ci può bloccare, si può recuperare un po', ma non è che cambia tanto. Bisognerebbe prevenire. E prevenire all'inizio è anche abbastanza facile. Un altro problema, oltre all'ostoporosi, è la secchezza dei tessuti. I tessuti, che poi erano tutti ormonodipendenti, soprattutto quelli genitali, la regina in particolare, diventano più sottili, più atrofici. E lì comincia un altro tipo di centomatologia. Sia che rende i rapporti sessuali molto difficili, o anche molto dolorosi. Anche questo può cambiare da persona a persona, ma è un patto scontato che i tessuti si atrofizzino. Oppure può arrivare anche a delle atrofie molto spinte, come l'ichen, che è una patologia abbastanza forte che va curata. Quindi che cosa deve fare una donna, appunto, in questa fase della fita? Cosa si può fare? Tante cose. Ancora mi ero accennato, accennando anche i cambiamenti, c'è anche i grossi cambiamenti metabolici. Mi aggancio dopo alla sua domanda. A metabolici, sì, certo. E quindi la donna in questo periodo perde quella protezione che gli estrogeni gli dava fino a quel momento, e quindi il sistema cardiovascolare, il sangue, si modifica al punto che aumenta il rischio di patologie cardiovascolari che erano molto modeste prima e che aumentano dopo. E quindi si pone un po' al pari dell'uomo quasi, come rischio, ma questo non viene molto valutato. Cosa si può fare? In questo caso, ecco che soggetti più a rischio, c'è aumento del metabolismo, c'è più facile la sindrome metabolica, quindi stare attenti alla glicemia, stare attenti al colesterolo, stare attenti alla funzionalità della tiroide, che comunque anche in quel periodo ha spesso molti cambiamenti e quindi influenzerà il corpo della donna. E quindi sono tutte cose su cui bisogna fare molta attenzione. Quindi appunto ci sono tanti punti su cui concentrare l'attenzione, naturalmente in questo periodo delicato, sia prima, nel pre-menopausa, abbiamo detto prima, sia nel corso proprio di questo anno, e poi anche il post. Beh, la stile di vita è sicuramente la prima arma che una persona dovrebbe comunque mettere in atto indifferentemente, parliamo di uomo o donna in generale. Stile di vita, lo accenno sempre, è un'alimentazione corretta. Ricordo che una fumatrice, è stato dimostrato, accelera la menopausa di almeno due anni. Quindi è una ragione in più per non fumare, insomma. Esattamente, questo è stato dimostrato, ma c'è un invecchiamento accelerato anche a livello dell'ovaio, e quindi l'ovaio di conseguenza si ferma, e quindi meno pausa. Poi l'alimentazione, che deve essere molto attenta al sovraccarico calorico, ai glucidi, ai grassi, quindi l'alimentazione molto attenta, molto leggera, cosa non facile, perché in quel momento magari rallenti il moto, mentre bisognerebbe essere sempre attenti a muoversi, cosa che fa anche bene alle ossa. E quindi è tutto concatenato. E lo stile diventa la prima arma, ma questo non vuol dire che sarà sufficiente per aiutare la sintomatologia. È chiaro. Terapie, terapie sono possibili in questa fase per aiutare, insomma, per agevolare. Abbiamo detto che non è una malattia, è una fase fisiologica, però ci sono anche delle terapie, se ne sente parlare, sia ormonali, sia naturali. Esatto. Allora, qui c'è un po' sempre la difficoltà. Se una persona, una mia paziente, una donna, sta molto male, invocherà chiaramente una terapia. Molte invece la prendono un po' in leggerezza, dicendo, ma è un fatto naturale, inutile che vado ad agire su quello che è la natura. Sono perfettamente d'accordo. Però, alla fine, quello che bisognerebbe valutare è che questa fase è una fase che durerà quasi altrettanto tempo quanto la vita che è già stata vissuta. Perché se ormai andiamo verso 80-90 anni, 40 li passeremo in menopausa. Quindi, quello che sarà del corpo, via via che passa agli anni, è quello che abbiamo seminato prima. Quindi non è solamente i sintomi di quel momento, ma è anche la qualità della vita e del corpo nel tempo che va avanti. Facile dire, beh, si deve invecchiare e accettiamolo. Nessuno accetta di invecchiare ormai. Tutti vogliono sentirsi sempre giovani, sempre bene e star bene. Quindi quello che entra è anche la qualità di vita. Oltre allo stile, l'alimentazione, l'attenzione, che abbiamo già accennato, ci sono poi anche delle terapie un po' più mirate, soprattutto quando i sintomi sono forti. Perché è lì che viene la richiesta di aiuto. Poche ragionano, perché non c'è una grande cultura, neanche secondo me, molti medici di base, neanche non dicono, ma lascia stare, dai, è naturale, hai fatto così, ti passerà, e poi è la vita. Invece in realtà conta la qualità di vita, non solo il tempo della vita. Chiaro. E in questo caso si possono ricorrere a due tipi di terapie, oltre allo stile di vita che l'avevo appena accennato, che è le terapie qualità naturali, che sono molto apprezzate, perché hanno un impatto abbastanza leggero sul tuo metabolismo, ma possono aiutare nei sintomi, che sono terapie naturali a base di isofraloni di soia, di cimicifuga, di salvia, cioè sono tante piante, tanti strati vegetali naturali che aiutano. Però questi fondamentalmente aiutano solo sui sintomi, non vanno molto ad agire sull'osteoporosi, non vanno ad agire sui tessuti, non vanno ad agire sull'atrofia, quello è completamente scoperto, quel campo lì. Nessuna terapia naturale è una cosa molto individuale, ci sono persone che ne tagliano grande beneficio, persone che li prendono, prendono un mese, due e come prima. E poi no. E quindi non è che sia sempre garantito. E allora si può cambiare, tipo di estratto vegetale, di integratori che sono anche molto composti, a base di vitamine, di estratti vegetali specifici, ma questi ti garantiscono non sempre di star bene, ma io voglio dire che li uso, non è che non li uso, non sto parlando male, sto solo dicendo che non bisogna aspettarsi che tutto il quadro della menopausa venga affrontato da questi farmaci. Agiscono prevalentemente sui sintomi, che sono quelli di cui parlavamo prima. Però il problema è cosa faccio per l'osso, cosa faccio per la secchezza, cosa faccio in generale per il mio avvecchiamento. Ecco, la terapia hormonale sostitutiva, che ormai è arrivata a livelli di sicurezza molto alti, è quella che può garantire un approccio globale. Devo dire che c'è abbastanza resistenza, perché soprattutto nell'inizio del 2000 ci sono stati dei lavori in America che sono stati anche smentiti o ridimensionati, che parlavano molto male di questa terapia, dicendo che improvvisamente provocava tumori, provocava un sacco di problemi. Ma quel momento, nel 2000, loro si rifarivano ai farmaci che esistevano 20-30 anni precedenti. Certo. Oggi abbiamo delle terapie completamente diverse, soprattutto molto più leggere, che daranno grande beneficio allo signore che vanno avanti anni con questa terapia e stanno bene. E questo è un problema, sì, studiare la persona, vedere che tenere sotto controllo la mammografia, il seno, vedere se non ha dei problemi a rischio potenziale, però una volta appurato, le terapie hormonali fanno star bene. si tratta di spiegare e soprattutto si tratta anche di essere attenti a come viene vissuta. Chiaro. E quindi è importantissimo, insomma, il rapporto medico-paziente in questo caso, medico, insomma... Sì, in quel caso questo tipo di terapia agirà sia sui tessuti, sia sull'osso, sia sulla sintomatologia, quindi avrà un approccio molto più globale. Globale e consentirà, insomma, di avere una buona qualità della vita. Annero c'è anche dimostrato che una terapia hormonale soltuttiva è preventiva, non si può dire preventiva, ma ritarda o compare di meno, per esempio la sindrome dell'Alzheimer. Ad esempio. Ci sono stati tanti significativi dati positivi, però c'è sempre un gran timore di questi ormoni. Non vanno dati con leggerezza, vanno dati ragionandoci, guardando la persona, perché non vogliamo mai dimenticarci che noi dobbiamo diventare una persona, quella persona, non le donne, ma quella donna con quella personalità, con quel metabolismo, con quella vita, e su quello bisogna fare. Quindi il discorso per me è molto personalizzato. Va personalizzato. Allora, dottore, siamo arrivati chiacchierando alla fine di questo appuntamento. Io le volevo chiedere ancora se la prossima volta, magari a questo punto parleremo di osteoporosi, osteoporosi, oppure se aveva... Ma in qualche modo vorrei affrontarlo, devo parlare con il mio collega che vorrei farlo arrivare, che è specialista, perché è un tema che va affrontato, che è molto importante. Sicuramente. Allora, lo prevederemo, cercheremo di prevederlo in uno dei prossimi appuntamenti. Grazie. Per il momento grazie, grazie dottor Giuliano Auber. Grazie a voi, grazie alle spettatrici che mi hanno ascoltato, e buona serata a tutti. Buona serata, buona serata a tutti. Grazie a tutti.